L'Onigo. Scontro tra due auto e un furgone portavalori lungo la strada San Feliciano ad Alonte. Quattro le persone rimaste ferite. Un Alfa Romeo Giulietta è entrato in collisione con il portavalori, con a bordo due uomini, dopodiché carambolata finendo per scontrarsi con un Audi condotto da una donna. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno estratto dall'abitacolo dell'Alfa e il conducente rimasto incastrato a seguito dei violenti impatti. Stabilizzato dal personale del suo e non è stato trasportato in ospedale. La donna e i due vigilanti sono stati a loro volta portati al pronto soccorso per le cure del caso. Carabinieri e polizia locale hanno provveduto a deviare il traffico per i rilievi, presidiando il furgone fino al trasferimento in un nuovo mezzo di armi e valori.